ciao ragazzi beh ormai lo sapete non c'è bisogno di un grande talento per creare un'opera d'arte abbiamo bisogno solo di un paio di forbici con la punta arrotondata e di abbondante colla vinilica la vostra cameretta è sporca ecco qui cosa fa per voi pensate sia uno spazzolino da denti sbagliato è uno spazzolino per pulire camerette frush frush continuate così per quattro o cinque giorni fatto ah poi non buttatelo via vi servirà per pulire i dentini frush frush e se dovete ospitare delle persone indesiderate e ingrate e ricche e non avete un letto da offrirgli vi bastano poche mosse per trasformare un cumulo di pietre in un cumulo di pietre letto aggiungete abbondante colla vinilica e lasciate ad asciugare fatto di notte avete freddo beh vi basterà qualche legnetto per riscaldarvi mi raccomando fatevi aiutare da un adulto può essere molto pericoloso e per oggi è tutto ci vediamo alla prossima ragazzi ciao